Sì, siamo qui per la meravigliosa raccoglione di Homestead per l'ultimo evento di Florida Winter Series. Per questo evento abbiamo definito la raccoglione come un'altra parte più un'altra parte della banca dell'Oval. I autori sono qui dopo aver competito in neve raccoglione e saranno molto competitivi in questa raccoglione perché la necessità di usare il slipstream e la spin per l'Oval sarà cruciale per la qualità e per la raccoglione. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!